Il mare come risorsa ma anche come tradizione da non dimenticare mai, nemmeno quando la tecnologia avanza e i vecchi lupi di mare sembrano un retaggio del passato e allora l'obiettivo diventa tramandare questa scuola di vita prima ancora di navigazione alle nuove generazioni. Questa mattina al Bolo Manfredi di Salerno a bordo del traghetto Travelmare dell'armatore Gambardella sono stati presentati i risultati del primo corso Salerno l'economia della risorsa mare che ha visto protagonisti l'associazione Il Vecchio e il Mare dei Fratelli Testa e degli studenti dell'Istituto Nautico Giovanni XXIII guidati dalla dirigente Daniela Novi dopo la parte teorica ora l'impegno pratico con la navigazione in mare. Noi abbiamo presentato un progetto per l'Istituto Nautico quest'inverno perché la preside Daniela Novi ha accettato volentieri e che la parte teorica, la prima parte è stata già conclusa qualche mese fa, adesso continueremo con la parte pratica appena la barca andrà a mare, fa qualche settimana, porteremo questi 54 ragazzi a fare delle uscite a mare a vela con questa barca qui, vado per la orca, dando così un contributo, non devono contributo di pratica e con l'esperienza pratica è quella la parte più conclusiva, più completa. Umiltà è modestia senza sentirsi già padroni di qualche cosa perché la vela antica, la cultura di mare antica è una cultura dove si imparano molte cose, rappresentano non solo la scuola di mare ma anche la scuola di vita per la formazione e carattere delle persone.